Ciao a tutti ragazzi ed eccoci di nuovo qui da Porto del Carmen Oggi di nuovo una rapida carrellata dell'Avenide delle Spiagge in modo da farvi avere un aggiornamento di quello che sta succedendo in questi giorni sempre più cose si stanno aprendo, sempre più bar, sempre più ristoranti anche adesso al mezzogiorno stanno riprendendo tutti quanti il servizio quindi la cosa è positiva, vamos Lanzarote! Ciao ragazzi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.